Ciao a tutti, sono sempre io Maddestroyer, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video molto molto importante che non facevo tantissimo tempo, ovvero la mia rosa al fantacalcio. Non avete letto male? Non ho scritto male, è un fantacalcio a 12. Assurdo, assurdo è stata la mia prima volta in un fantacalcio a 12. Inoltre reputo gli altri 11 partecipanti molto validi, anche perché quando si parla di mettere i soldi in mezzo sono validi tutti. Per cui un fantacalcio non dico serio, però abbastanza. Abbiamo fatto l'asta tra l'altro dalle 9 fino alle 4 del mattino, è stata durissima. Me l'aspettavo molto dura e è stata così anche perché 12 partecipanti, ragazzi, anche per il discorso dei portieri. I portieri titolari bene o male sono 20, 21, i partecipanti sono 12, per cui fate due calcolini al volo potete benissimo capire che si rischia. Stessa cosa per gli altri ruoli. Nonostante questa grande sfida dei 12 partecipanti, io personalmente sono molto soddisfatto di questa rossa, che vi andrò a dire adesso, anticipando a voi che i crediti a disposizione per ogni partecipante erano 1000. Partiamo dai portieri, ovviamente tre portieri. Cosa ho fatto io? Per il calcolo di cui vi parlavo prima, tra virgolette, dei portieri, e per non rischiare ho preso tre della stessa squadra. Quindi ho preso i tre slot del Torino. Sirigu, Rosali, Zaccagno. Pagati rispettamente Sirigu 56 e gli altri 2 a 1. Quindi per i portieri mi ero prefissato dei prezzi da spendere per ogni settore e anche qui l'ho rispettato. I portieri mi ero messo 50-60 e qui ho fatto 58 per i tre portieri del Torino, che secondo me sono molto validi e sono molto contento di questo acquisto. Difensori. Io ho deciso di puntarci forte, sia sulla difesa che sul centrocampo, ovviamente senza trascorare l'attacco. Quindi in difesa, vi ricordo, mille crediti. Delict. Delict l'ho preso, l'ho preso perché ci tenevo tanto. Un giocatore che sicuramente non giocherà a tutte le partite, però credo che almeno 27-28 su 38 le giocherà. Diciamo, lui è il più giovane in rosa dei difensori della Juventus, ma è quello che forse ha più personalità addirittura. Per cui un grande acquisto, non c'è bisogno di presentazioni. Chiunque sia stato al mondo l'anno scorso per ammirare la Champions League conosce che tipo di giocatore è Delict. Sperando che si possa ambientare subito nel nostro campionato, ma 60 ce li rimetterei immediatamente. Quindi Delict preso a 60, Gosens a 42. Non c'è bisogno di dire nulla. Un ottimo esterno dell'Atalanta. L'Atalanta si dovrà alternare in Champions e per questo motivo ho preso anche Castagna 2. Addirittura Castagna 2, ragazzi, è un prezzo vergognoso. Questo perché si erano scordati tutti. Poi Godin, Godin 44. È un rischio perché può risuccedere la stessa cosa di Vidic. Per chi si ricorda, amici interisti, un po' di anni fa con Vidic. Però speriamo che non risucceda con Godin. Perché Godin, ragazzi, ci ha speso 44. È un mio pupillo. Izzo. Izzo che ce l'ho avuto l'anno scorso. Mi ha portato veramente tante soddisfazioni. 6,5-7 fisso sia in casa che fuori. Gol di testa. A me pare 3-4 gol di testa. Ragazzi, Izzo lo considero un top a tutti gli effetti. L'ho preso a 42 che mi sembra anche un buon prezzo. Bonucci 30. Bonucci è stato un po' sottovalutato. Me l'immaginavo, me l'aspettavo. E per questo era un mio obiettivo prefissato prima dell'asta. Anche nell'altro fantacalcio. L'ho preso e se volete la rosa dell'altro fantacalcio ditemelo che ve la porto. E Bonucci 30, se non è un buon acquisto, considerando anche che ho De Ligt. Quindi almeno uno su due centrali della Juve mi giocano sicuramente sempre. Poi, per completare gli slot, siamo arrivati a 6 difensori. Gli altri due avevo già speso tantissimo e sono andato leggermente oltre il valore che mi ero prefissato. E per cui ho preso Danilo del Bologna a 4 e Jim Seedy a 3, così. Perché Jim Seedy dovrebbe giocare almeno 12-13 partite in campionato. Però a 3 crediti mi va benissimo. Difesa ottima, mi è piaciuta tantissimo. Avevo speso moltissimo, quindi con il centrocampo mi sono un po' tenuto fermo rispetto a quello che mi ero prefissato. E ricordiamoci ragazzi che siamo in 12, in 12 ragazzi è una marea. In 12 già è tanto avere un top per ogni reparto. Io sono riuscito ad averne anche due, per cui secondo me ho fatto una buona asta. Centrocampo. Centrocampo, come avete sentito dalla difesa, sarà leggermente minore alle aspettative che mi ero prefissato. Ma comunque un buon centrocampo di tutto rispetto. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ha 85, un giocatore che dà garanzia al Napoli. Un giocatore che ha tanta classe, eleganza. Può giocare all'occorrenza da esterno, da trequartista, da mezzala. Quindi un jolly veramente del centrocampo. Può portare bonus e può portare grandi, grandi voti. Quindi ottimo acquisto. Lazari a 50, dopo lo scorso anno non potevo assolutamente lasciarlo a qualcun altro. Un giocatore che l'anno scorso ha fatto una marea di assist e quest'anno con la Lazio può farne ancora di più. L'ultima partita, la prima giornata, ha preso 7 senza nessun bonus, mi sembra. Correggetemi voi se mi sbaglio. Un giocatore molto buono che è considerabile assolutamente da prendere sulla seconda, terza fascia. O addirittura in prima fascia considerando un fantacalcio a 12. Lo ripeto, ogni due secondi perché ragazzi veramente fa la differenza. Rogue a 26. Ci ho provato che secondo me tra Nandez e Nengolan Rogue era il più offensivo, tra virgolette. Quello che prende meno cartellini, quindi ho preso a 26. Mentre Nengolan mi pare andato a finire a 70. Andiamo su Ramsey, 45. Anche lui lo volevo prendere, un giocatore che mi fa impazzire. 45 milioni, sono tanti abbastanza. Considerando anche che la Juve ha tanti giocatori di centrocampo, la Juve dovrà roteare. Però quelle partite che giocherà Ramsey io lo schiererò sempre. Qualunque squadra abbia contro. Ansaldi a 25 fantamilioni, sono contentissimo. L'anno scorso difensore con la fantamedia più alta. Quest'anno centrocampista, per carità, ha perso un po' di appeal. Ma sinceramente, secondo me, questa cosa di sottovalutarlo per il cambio ruolo è una cosa che ho sfruttato molto bene. Un giocatore molto simile a Lazzari. Uno che gioca esterno di centrocampo del Torino. Che potrebbe portare anche lui molti bonus, come ha fatto l'anno scorso. Oltre che assist, proprio goal. Poi me l'avevo prefissato anche lui e sono riuscito a cavarrarmelo. In un'asta abbastanza feroce. Kurtic. Kurtic ha 32, prezzo giusto. C'è una mezzala che può portare bonus e buone valutazioni. Ovviamente, ragazzi, non spendeteci troppo. Io, secondo me, c'ho spesso 32. In un'asta a 12 va benissimo. Lulic e Joni. Ho preso Lulic e Joni in un totale di 9. Lulic ha 4 e Joni ha 5. Secondo me è una copiata ottima. Lulic è un giocatore che anche lui è sempre sottovalutato. Ma comunque l'ho voluto prendere. Oltre che per riempire lo slot del centrocampo. Anche perché credo in lui. Quindi mi assicuro la fascia sinistra della Lazio titolare. Che comunque, ragazzi, tutto rispetto a meno di 10 crediti è tanta roba. Siamo arrivati al settore più importante del fantacalcio. Ovviamente non è che bisogna prendere solo attaccanti e poi tutti a uno negli altri reparti. Questo l'ho imparato negli altri fantacalcio. Anche se una volta mi è andata bene. Una volta però. Mi rimanevano, diciamo, meno crediti degli altri. Quindi ho fatto un attacco senza top assurdi. Il primo giocatore che ho preso, ragazzi, è un prezzo esagerato. Mi rendo conto che forse ho fatto una stupidaggine. Ma questo giocatore lo volevo a tutti i costi. Lo volevo a tutti i costi perché secondo me può stupire. È un giocatore di qualità, classe straordinaria. È l'acquisto più grande della storia del Napoli a livello di prezzo. Ebbene sì, è Irving Lozano preso a 130 milioni. Ok, è un grande prezzo. Però consideriamo che Gervinio mi pare sia andato a 107. Ho aspettato molto prima di prendere gli attaccanti e per paura di non prenderlo ho alzato fino a 100. E me lo sono preso. Sono contentissimo perché considerando De Laurentiis che è un tirchio della Madonna, credo che almeno 30-27 partite le faccia. Comunque Lozano è un jolly, Lozano è uno che può stupire e mi fido ciecamente di lui. Dopo Lozano arriva uno che ragazzi lo amo come giocatore, ancora prima che esplodesse definitivamente questi ultimi due anni, ed è Fabio Guagliarella. Fabio Guagliarella che mi ha fatto sognare quando di favola Juve a 13 anni contro il Chelsea. Io mi ricordo ancora il suo gol, quello mi ha fatto urlare tantissimo. Da lì mi sono innamorato di questo giocatore. Questi ultimi due anni sono la prova inconfondabile che è un giocatore straordinario, un genio incompreso, che ha fatto gol pazzeschi su gol pazzeschi. E Fabio Guagliarella ragazzi non me l'ha tolto nessuno e l'ho preso ad un prezzo ridicolo, 160. Quando Dzeko è andato al doppio, Mertens è andato al doppio, comunque è rigorista, non dico che potrà ripetere l'andante dell'anno scorso, assolutamente non lo farà, non lo farà. Però era uno che volevo prendere e secondo me può fare ancora tanto bene. Agli altri avevano finito i crediti, perché comunque avevano finito più o meno tutti i top e me lo sono portato a 160, che secondo me è un prezzo ridicolo. Considerando un'asta comunque a 12, dove 12 squadre volevano avere almeno ognuna il proprio top, quindi per me 160 è oro. Gli altri ragazzi ho preso la vatura a 50, non è che mi convinca tanto, però comunque la prima punta del Lecce, 3-4 gol, 5-6, se siamo pessimisti li potrà fare. Speriamo che beccherò la giornata giusta e lo schiererò, anche se potrà fare tipo 8 gol e non azzeccherò una giornata che lo metto. Poi un altro giocatore che tutti sottovalutano giustamente perché ha fatto dell'annate ultimamente non all'altezza della reputazione che si era creata attorno a lui, Berardi. Berardi l'ho preso a 70, è tanto. Berardi 70 ci ho voluto provare. Ci ho voluto provare perché, come altri, guardando le statistiche degli scorsi anni, reputo uno di quei giocatori che peggio dell'anno scorso non può fare. Può fare solo meglio, per cui chi lo sa, magari ho beccato una grande rivelazione. In seguito ho preso Sanzone a 44, erano rimasti praticamente pochissimi attaccanti decenti. Sanzone, per carità, fatto gol alla prima giornata, è un attaccante buono da quarta a quinta fascia, per cui sono soddisfatto considerando gli altri che erano rimasti e considerando tutti gli altri partecipanti che si sono riempiti gli slot degli attaccanti di giocatori che probabilmente non faranno grandi cose, non giocheranno, per cui io sono stato fortunato sotto questo punto di vista, quindi Sanzone non è male. Ultimo slot, Farias a 14, considerando che ho la Vadula, almeno dei due in teoria uno dovrebbe giocarle le partite, poi al limite, sti cavoli, cioè l'ho pagato 14, lui negli altri fantacalcio, non dico che ha stupito, però ha sempre portato a casa qualcosa, rigorista, qualche assist con il Cagliari, con l'Empoli, ha fatto abbastanza bene, per cui lo reputo un giocatore buono, da ultimo slot buonissimo. Questa è la mia rosa, devo dire la verità sono molto soddisfatto, pensavo molto peggio, non è la migliore rosa che ho fatto in vita mia, anche se si avvicina comunque, sono molto soddisfatto. Oppure essendo in 12 sono riuscito a combinare qualcosa, sono riuscito a prendere Guaiarella, Ruiz che mi ero prefissato, Lazzari che mi ero prefissato, Delict che mi ero prefissato, Izzo, Siriku, sono riuscito a prendere chi volevo io e ho riempito gli slot in modo, diciamo, abbastanza distribuito, non ho fatto cavolate. Ditemi prima di tutto se vi piace la rosa, datemi qualche consiglio, qualche critica è ben accetta, anzi tutte le critiche sono ben accette, fatemi sapere che ne pensate, cosa avreste fatto voi, se vi piace la rosa, che ne so, date un voto, fate voi, ovviamente con tutta l'educazione del mondo, altrimenti bannavi fuori. Fatemi sapere voi chi prenderete al fantacalcio, se avete mai fatto un fantacalcio a 12, se la vostra rosa quando l'avete fatta a 12 era peggio, meglio, ditemi voi. Fino alla fine forza Juventus e ci vediamo sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.